Ci sono tre mercati che sono importantissimi nel vecchio continente, quello francese, quello tedesco e quello russo. Se tengono i primi due, non si può dire la stessa cosa per quel mercato che consentiva ai produttori di ceramica di vendere il prodotto a prezzi particolarmente elevati, prodotti sofisticati, prodotti particolarmente ricchi di colore, di decoro, di oro mi verrebbe da dire perché nei bagni delle ville russe c'era tanta piastrella decorata in oro, ebbene quel mercato da alcuni anni a questa parte non riesce più ad esprimere gli stessi numeri e questo procura problemi e anche non piccoli per molti gruppi ceramici, tra virgolette sassolesi, i quali hanno visto ridursi di un 10% il proprio bilancio, per cui se un'azienda fattura 100 milioni di Euro, perdere d'amblè 10 milioni di Euro di fatturato è qualcosa di preoccupante. Ebbene, che cosa sta succedendo in Russia? Proprio in questi giorni è in pieno svolgimento il Batimat, ossia la fiera internazionale delle piastrelle di ceramica e dell'arredo bagno che si tiene nei padiglioni espositivi di Mosca. Noi con il nostro giornale, il distretto, abbiamo raggiunto telefonicamente Loris Marcucci, Loris Marcucci è già un volto noto a voi in quanto nostro ospite, ogni anno lo invitiamo, lo inviteremo nelle prossime settimane per parlarci di Russia. Nell'immaginario collettivo i problemi della Russia sono sorti con l'invasione della Crimea, da lì le sanzioni, ma non è dello stesso avviso Loris Marcucci, il quale ci fa notare che la direzione del mercato russo di questi tempi è delineata, purtroppo in maniera molto chiara. Come la sua direzione? L'anno scorso la statistica ci ha consegnato un meno 45% di importazioni in valore. Nei primi due mesi del 2016 dicono che sono stati consegnati in 7% in meno di appartamenti, quindi crisi economica indotta anche da fattori geopolitici si dice, ma non è tutto lì e basta pensare alla variabile monetaria, anche appunto parlando di rublo il suo valore si è praticamente dimezzato, oggi 77 rubli e per euro, mentre nel 2013 quando il settore ceramico esportava 5 milioni e 700 mila metri il cambio era 39 a 1. Non è un caso che oggi il mercato russo per chi esporta ceramica valga poco più di 2 milioni e 700 mila euro. I mali non arrivano mai da soli, c'è sempre il problema dell'inflazione, i dati ufficiali parlano del 12% ma si ritiene che sia molto più alta. Ebbene, che cosa fanno i vertici per cercare di mettere una pezza a questa situazione, Marcucci ci dice che si potrebbe parlare di accerchiamento, cioè che le sanzioni servano al governo come capro espiatorio di questa situazione, potremmo chiamarla sindrome da accerchiamento, che Putin è bravissimo a stimolare facendo leva sul senso di appartenenza dei russi. Ci sono l'idea della fortezza assediata e anche l'anti-americanismo che resiste, anche se credo non sia pensabile che ove venissero cancellate le sanzioni l'economia si riprenderebbe. I problemi dell'economia russa sono radicati ben oltre le sanzioni che pure ne hanno accentuato le difficoltà.